Inizio a cercarsi da un'indagine sulla mafia che maturò una serie di innovativi, di un metodo che si produce. E quindi si mettono un uomo, si mettono un uomo di un sacro che era a nostra disposizione per correre sulla traccia. A me hanno detto che molte volte il palermo può definire il fatto come una sola parola. Sì, qualcuno era un uomato. Io dico sempre che Giovanni aveva un orizzonte che è diribile per tutti i nuovi dell'orizzonte. L'orizzonte dei Giovanni era molto più avanti del nostro. Quindi lui veneva volte diribile per ogni uomo di comunità. di Maria e questa attuale la capacità genomissionaria gli consentivi inventari che su me l'ho fatto molto, in cui non mi fattengo nel dettaglio che sono degli esperimenti del genere processuale, che però comportò un salto di qualità incredibile nella risposta giudiziaria dello Stato. Grazie per la visione!